Scusami, te la dico la mia tecnica con le ragazze? Dai, fammi vedere la mia tecnica. Senti, ma sabato sera... Avanti! Avanti! Via, 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 via! Edan Bufal, 16 anni, non figura tra le vittime e un testimone dice che anche lui aveva un detonatore in mano. Bravissimo. Tutto a posto. No, non ti muovere, stai tranquillo. Passami. Va tutto bene. Dopo l'esplosione nessuno l'ha più visto. Vuoi dire che è scomparso? Ha una bomba addosso? Cosa? Ha una bomba, merda! Suo figlio non è scomparso, lui è in fuga. Bispruno, Bispruno, rispondete! Che vuoi fare, Abercam? Vuoi scappare? Lo cercano per tutta la città. Farò quello che Allah vuole da me. Bispruno, rispondete! Sei un ragazzino, Siam, e hai paura. Bispruno, mi ricevete! Tutti hanno paura, non sei diverso dagli altri. Bispruno, rispondete! Ma prego. Non lo uccida. Caglio, che fai? Non farlo! Bispruno, bispruno! Bispruno, non farlo! Radio Italia Radio Ufficiale Radio Ufficiale